La Befana è la festa di tutte le feste natalizie, per me è quella più misteriosa di tutte. Ed è ancora per me quella, la figura, proprio la Befana, che è quella forse che è stata meno raccontata. Ha sempre avuto un ruolo importante, vuol dire mamma, vuol dire famiglia, festa. Io ogni anno, il 6 gennaio, mi sveglio con il vassoio, il latte, i biscotti e la calza della Befana. Non può mai mancare la tradizione, tutti gli anni deve essere rispettata. Non ci pensate? Almeno imparate a me comandare la scopa. Attenta a come parlo, giovinone. Tutti abbiamo avuto paura un po' della Befana, perché la Befana è questa strega che arriva il 6 di gennaio, che porta le caramelle ai bambini buoni e il carbone ai bambini cattivi. Però in questo film penso che la Befana è più vista come una fata che una strega. Ah! Non si vede, non si vede lo sfoccio. Befana! 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 Io nel film interpreto Paola, la protagonista, che è un'orfonella che vive per strada e per sopravvivere ruba. Dolores è una strega buona, protegge e salva questi bambini, tutti questi bambini e quindi diventa come una madre o una nonna se vogliamo. Interpreto un certo Demichelis, un uomo apparentemente molto cattivo, leggermente gobbo, sono anche un po' zoppetto, quindi un uomo che non è felicissimo e quindi è cattivo. Dov'è? 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 Credo sia milanese o altrettamente. Dov'è? Interpreto Marmotta, questo soldato che viene bistrattato dal suo comandante Demichelis. Penso che sia un film che unisce tanto, quindi è bello secondo me vederlo in famiglia, quindi i più piccoli insieme ai genitori. Gradite il ballo? Credo si divertiranno molto con questo film perché è pieno di cose che succedono, di voli, di effetti speciali, di grande divertimento. Io vi aspetto tutti quanti al cinema con La Befana Vien di Notte 2 Le Origini e sono sicura che vi piacerà tantissimo, quindi non ve lo dovete perdere.